Prosegue a Rimini Ecomondo, ERA ha presentato nuovi report con nuovi contenuti. I mille volti del servizio alla fiera Ecomondo di Rimini, ERA ha raccontato l'impegno dell'azienda sul fronte dell'economia circolare, dell'efficienza energetica e della qualità dell'acqua del territorio. Il tutto in un'ottica di trasparenza e di valore condiviso. Il senso di questi report che abbiamo pubblicato oggi è quello di dare con i fatti in termini concreti e sono numeri assolutamente certificati, il tono e la misura del lavoro copartecipato tra noi e i cittadini su alcune delle attività che caratterizzano il nostro lavoro di tutti i giorni e dall'altro anche una misura concreta di a che punto è lo sviluppo di questo territorio sulle tematiche ambientali più importanti come quelle del riciclo, della circolarità, del risparmio energetico che sono ormai all'attenzione di tutti i cittadini. Il livello di raccolta differenziata in questo territorio che ha superato il 55% ha un 94% di questa raccolta differenziata recuperata che è una percentuale tra le prime in Italia. Un beneficio per i cittadini, per ogni singola famiglia che supera i 27 euro ed è il 20% superiore al resto d'Italia. Ma è anche un territorio che ha saputo valorizzare molto bene alcune delle sue attività sull'efficientamento energetico dove siamo anche lì all'avanguardia a livello nazionale nel conseguimento degli obiettivi del 2020-2020. Questi sono solo alcuni esempi che danno la misura di come si stia lavorando in maniera industriale, ordinata, con il tempo che ci vuole.